Al primo posto una promessa degli scacchi, Tanturri Francesco Paolo. Questo lo premio io perché è un giusto per lo teneremo. Si è concluso lo scorso 19 maggio il corso di scacchi organizzato dalla ASD Sulmona Scacchi con il patrocinio del Lions Club di Sulmona e della Fondazione Carispac. Nella splendida cornice del ristorante Trearchi si è svolto il torneo finale tra i ragazzi che hanno partecipato al corso. Il torneo è stato vinto dall'undicenne Tanturri Francesco Paolo che già lo scorso 8 maggio aveva partecipato ad un torneo a Pescara classificandosi a quinto posto nella sua categoria. Francesco verrà iscritto dal Circolo di Sulmona anche al Trofeo Coni 2022 la cui fase regionale si svolgerà a Pineto il prossimo 25 giugno. Il presidente del Circolo degli Scacchi di Sulmona, Luzio Antonini, ha ringraziato tutti coloro che si sono impegnati per la riuscita sia del corso che del torneo finale e ha espresso viva soddisfazione per l'intervento del sindaco Di Piero. Su invito del primo cittadino verrà infatti organizzato un torneo regionale entro la prossima estate che si terrà nella rotonda di San Francesco ed ha invitato Luzio Antonini ad individuare una data in modo da inserire l'evento nel cartellone estivo che il comune sta predisponendo. Luzio Antonini